Sebastian Rui, finalmente sono arrivati questi primi tre punti nella Champions, dopo due sconfitte, la vittoria che ci voleva? No, abbiamo fatto vedere delle belle cose stasera, abbiamo giocato molto bene, con passione, con aggressività, soprattutto in offensiva come in difensiva, possiamo essere contenti dei tre punti come abbiamo giocato adesso, adesso sappiamo che se vogliamo continuare la competizione della Champions dobbiamo vincere questi due in casa, una è fatta, adesso c'è la prossima domenica e dobbiamo già guardare in avanti. Avete giocato molto aggressivi ma anche molto disciplinati, avete concesso soltanto un'infinità domenica alla squadra bianconiera? Sì, abbiamo avuto tanti power play, il power play ha giocato bene stasera, è esattamente così che dobbiamo giocare se vogliamo vincere le partite di Champions. Tu che hai giocato tante stagioni a Lugano, come ti sembra questo livello di questa Coppa, di questa Champions? Non è male, sicuramente che questa squadra, lo vediamo tecnicamente, fisicalmente, sono un po' inferiore a noi. Dopo c'è la squadra di domenica, Pilsen, una bella squadra con dei giocatori molto bravi, bravi, ha un'individualità molto forte e lì sarà sicuramente un'altra partita. Possiamo dire due parole su Linus Klasen, che è sembrato il vero giocatore, il vero rinforzo della squadra. Il Klasen che nell'ultima stagione è mancato nel finale, invece sembra ritrovato. Sì, abbiamo fatto una bella partita, ha avuto tanto il disco e quando lui ha il disco sicuramente che aiuta. Quando lui ha il disco sul bastone e non deve andare a prenderlo, non è il suo gioco, deve avere il disco sul bastone. Quando l'ha tanto come stasera sicuramente è un avvantaggio per lui e ha fatto una grande partita stasera. L'ultima cosa, la tua linea quest'anno con Morini, come ti trovi? Bene, è la prima volta che gioco con loro perché le partite che ho giocato fino ad adesso, ho giocato con la vecchia linea, diciamo Walker, Sanitza e io, che è andato bene. Stasera ha voluto cambiare qualcosa e noi abbiamo lo stesso sistema per tutte le linee, vuol dire che possiamo giocare con ogni uno e niente, era bello da giocare con il Morini e il Jörg. Siamo in una linea un po' aggressiva, un po' che possiamo entrare bene dopo un power play o così, per giocare in avanti, per fare un po' di pressione sui difensori. È il nostro lavoro. L'ultima cosa, speriamo di vedere tanto pubblico domenica sera. Forse è una partita importante per il vostro proseguo della Champions. Sì, sicuramente, come l'ho detto prima, dobbiamo vincerla, se vogliamo giocare ancora per qualcosa e non andare in Finlandia per niente, più in là, no, vogliamo vincerla e sicuramente stasera c'era gente e speriamo che domenica sarà ancora più. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.